salve a tutti amici dopo l'esaurimento della prima è disponibile la seconda edizione di un mio libro si tratta di venezia ispanica spunti per un itinerario turistico è un libro che avevo pubblicato lo scorso anno sempre con lo stesso editore club di autori indipendenti e che ripropongo oggi in una nuova versione corretta rivista e ampliata fondamentalmente il filo rosso è sempre lo stesso si tratta di un'indagine culturale storica sui rapporti che hanno legato la città di san marco e le spagne tra la fine del 400 e l'inizio del 900 è una ricerca che ho condotto tenendo in considerazione diverse prospettive quindi non soltanto la storia ma anche l'arte la letteratura insomma la cultura in generale con l'obiettivo di offrire agli operatori turistici degli spunti per l'elaborazione di un itinerario ispanico a venezia quindi di un percorso turistico che possa risultare interessante per i visitatori italiani e stranieri desiderosi di esplorare la città con una chiave di lettura insolita inedita per coloro che venezia la conoscono già ma che possono essere desiderosi di conoscerne una sfumatura per loro nuova poco affrontata e anche per quei turisti provenienti da paesi di lingua e cultura ispanica che magari si trovano a visitare per la prima volta a venezia e possono tornare a casa non solo contenti per aver visto un posto nuovo aver conosciuto una storia nuova una cultura nuova ma anche per il fatto di trovarsi magari arricchiti e rinfrancati nella conoscenza della loro storia patria ossia di alcune pagine poco citate solitamente poco affrontate della storia del mondo ispanico è una ricerca in cui mi sono impegnato tornando nelle biblioteche sono stato in spagna sono stato anche a bellaggio dove si trova villa melzi una residenza in cui per un certo periodo è stata conservata la colonna d'infamia che i veneziani avevano posto a imperitura memoria del tentativo di congiura di bayamonte tiepolo questo manufatto era stato acquistato dalla famiglia melzi che l'aveva portato a bellaggio e poi la stessa casata lo ha in seguito restituito a venezia e oggi si trova il museo correr un ricordo della congiura di bayamonte tiepolo che è un evento storico che ha ispirato anche un dramma teatrale a uno scrittore romantico spagnolo dell'ottocento francisco martinez della rosa che è stato autore del dramma storico la congiura di venezia è una di quelle piccole grandi storie che ho provato a riassumere nei capitoli che compongono questo testo che non è una guida turistica una guida turistica spagnola di venezia manca ancora si tratta di una serie di sintesi che possono essere approfondite per cercare di offrire degli stimoli lo studio dei legami tra venezia e le spagne è ancora un cantiere aperto c'è ancora tanto da riscoprire tanto da esplorare nei prossimi anni io voglio continuare i miei studi inerenti ai legami tra venezia e il carlismo e anche in questa seconda edizione ho ristampato un documento che a suo tempo era uscito nel 1907 e era diventato molto raro si tratta dell'album carlista i signori duchi di madrid nel palazzo loredan una raccolta di immagini che dovevano mostrare ai tradizionalisti di tutto il mondo la reggia in esilio della monarchia legittima palazzo loredan sul cala grande ma una serie di immagini che per la loro epoca erano anche un po una piccola guida turistica per cui i carlisti che desideravano recarsi a venezia in pellegrinaggio sono immagini veramente splendide che l'editore qui ha ristampato su carta lucida e la resa grafica è molto gradevole sono molto contento del risultato finale il testo è rinnovato anche nella copertina sono molto felice di questa seconda edizione si continua sempre ad approfondire a studiare ci si migliora sempre è stata una bella sfida spero che il mio lavoro possa risultare gradevole per per i curiosi per coloro che abbiano il desiderio di conoscere un volto diverso di venezia per gli studiosi se volete acquistare una copia del mio testo io vi lascio i riferimenti nella didascalia e vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi saluto di cuore grazie a tutti